... Modica si dimettono i vice sindaco scarso, gli assessori amoroso e garofalo, tutti uomini MPA e crisi amministrativa Palazzo San Domenico. Consiglio provinciale oggi seduta aperta in contemporanea nazionale, discusso il decreto sull'abolizione delle province. Ragusa continua il botte e risposta tra i capigruppo Sasà Cintolo e Filippo Angelica, maggioranza consigliare in stato conclusionale. Comiso il Partito Democratico apre alle larghe intese, l'auspicio è che si voti la sfiducia ad Alfano entro febbraio. Buonasera, bentrovati con l'informazione di Free News. Iniziamo subito con la prima notizia in scaletta e in apertura del nostro Tg ci occupiamo della crisi amministrativa che esplosa oggi al comune di Modica dove tre assessori del Movimento per l'Autonomia hanno presentato le loro dimissioni. Sentiamo il servizio. Crisi amministrativa a Modica, si sono dimessi il vice sindaco Enzo Scarso, l'assessore al bilancio Santino Amoroso e l'assessore alle politiche sociali Paolo Garofalo, tutti uomini dell'MPA. I motivi alla base della decisione sarebbero imputabili al mancato raggiungimento dell'intesa per il rimpasto in giunta, anche se il silenzio stampa vige ancora presso le sedi dei partiti a Palazzo San Domenico. Intanto domani dovrebbe tenersi un incontro nella sede del PD ma è ancora tutto da confermare e pensare che solamente qualche giorno fa era l'inizio dell'anno, il sindaco Buscema aveva presentato il bilancio per l'anno 2011 in cui, oltre a vantare i progressi compiuti dall'amministrazione, soprattutto a livello economico-finanziario, aveva rimarcato la coesione della coalizione con l'MPA, nonostante quanto accaduto nel 2011. L'anno appena passato infatti non è stato certamente positivo per il Movimento per le Autonomie, travolto dallo scandalo giudiziario del Consorzio Copai che ha portato agli arresti domiciliari per parecchie settimane di uno degli esponenti politici più importanti del partito sul versante modicano, Riccardo Minardo. Un'alleanza che è stata all'origine o almeno ha contribuito certamente in tal senso dell'assegnazione al comune modicano di un prestito considerevole da parte della regione siciliana, il cui governatore si sa appartiene all'MPA. Con le dimissioni di oggi però pare che l'alleanza tra PD ed MPA sia arrivata ad un punto di rottura. L'MPA avrebbe infatti richiesto maggiore visibilità in giunta senza ottenere tuttavia le risposte attese. Una presunta scissione che, se confermata, costerebbe certamente cara al primo cittadino che sarebbe messo in minoranza politica se i consiglieri dell'MPA, finora la maggioranza, passassero alle file dell'opposizione, a conferma della regola che in politica tutto è in divenire. E proseguiamo ancora con la cronaca politica che riguarda il territorio ibleo. Consiglio provinciale è aperto oggi pomeriggio a Ragusa. All'ordine del giorno la legge nazionale che prevede l'abolizione delle province. Un servizio. L'Italia senza le province. Questo è il punto all'ordine del giorno che è stato affrontato oggi pomeriggio dal Consiglio provinciale di Ragusa. Il Consesso si è riunito presso l'auditorium della Camera di Commercio in contemporanea con tutti i consigli provinciali d'Italia, così come concordato con l'UPI l'Unione Province Italiane. L'iniziativa rientra nell'ambito delle azioni intraprese a carattere nazionale per contrastare l'attuazione del decreto del governo Monti che non sopprime formalmente le province ma di fatto le svuota della loro natura costituzionale. Come si ricorda infatti a partire dal 2013 i consigli provinciali e le giunte verranno sostituiti dai liberi consorsi tra comuni. Durante la seduta di oggi è stato evidenziato l'importante ruolo svolto da questi enti a proposito di istruzione, di difesa del territorio e soprattutto di raccordo tra gli enti locali e i governi regionali e nazionali. Intanto nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficializzazione della proroga del Consiglio provinciale, della giunta e del Presidente sino alla primavera del 2013, mentre la schienza naturale dei mandati lo ricordiamo era prevista per l'aprile di quest'anno. E hanno giurato questa mattina i due neoassessori provinciali, sono Giovanni Scucces e Salvatore Montisanti, rispettivamente con delega al territorio e ambiente e ai servizi sociali. Alla cerimonia il giuramento svolta se dinanzi al Vice Secretario Generale dell'Ente, Raffaele Falconieri, erano presenti il Presidente della provincia regionale di Ragusa, Franco Antoci, e ai componenti della giunta provinciale. Dopo il giuramento, gli assessori Scucces e Moltisanti hanno partecipato alla loro prima riunione di giunta provinciale. E adesso occupiamoci di cronaca. Gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Vittoria hanno tratto in arresto Gianluca Pardo, già gli arresti domiciliari, i particolari in questo servizio. Arrestato da personale del commissariato di Polizia di Vittoria Gianluca Pardo, 30 anni vittoriese, l'uomo già agli arresti domiciliari è stato condotto presso il carcere di Bicocca. Un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ha infatti ricalcolato le pene alle quali Pardo era stato condannato per vari reati, dall'associazione a delinquere di tipo mafioso, armata, a violazioni di norme in materia di armi, a reati contro il patrimonio come il furto, ricettazione, commessi dal 1997 per tutto il decennio successivo. All'uomo resta ancora da espiare la pena di 3 anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione. Sempre i poliziotti del commissariato di Vittoria hanno segnalato all'autorità giudiziaria tre persone e poi sono intervenuti nella notte appena trascorsa per un incendio e danni di un'autovettura. Ascoltiamo di cosa si tratta e cosa è successo in questo servizio. Intensa attività della Polizia di Vittorio. Un uomo di 65 anni responsabile di truffe e appropriazione in debito è stato segnalato. Le indagini hanno appurato che raggirando un anziano signore al quale aveva promesso una rapida liquidazione di non precisate arretrate di pensione. Aveva ottenuto la delega alla riscossione e si era impossessato di varie rate di pensione per un importo totale superiore ai 3.000 euro. Ed ancora due ragazzi di 29 e 30 anni vittoresi sorvegliati speciali con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. E infine nel corso della notte appena trascorsa una volante è intervenuta in via palestra per l'ingendio di un veicolo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Sul luogo è stata trovata una bottiglietta in plastica con tracce di liquido infiammabile. Il proprietario è un tunisino di 42 anni. Sono in corso indagini per accertare la dinamica. Sfiorata una possibile tragedia ieri sera nel centro storico di Ragusa dove è crollata una parte delle prospetto di una vecchia casa disabitata che si trova in via Carlo Alberto dalla chiesa. La zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Un servizio che ci parla di questa tragedia. Crollata ieri sera nel centro storico di Ragusa una parte del prospetto di un vetusto edificio disabitato e alto una decina di metri che si trova in via Carlo Alberto dalla chiesa. Per fortuna non ci sono stati feriti. L'improvviso croll si è verificato cinque minuti dopo le 22 quando la maggior parte della gente è già rincasata. Peraltro il vecchio e fatiscente immobile si trova adiacente all'ingresso del nuovo parcheggio pubblico. Allarmati da sordo, Fragore, i residenti della zona interessata alla croll hanno lanciato l'allarme. In pochi minuti in via dalla chiesa sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale Ibleo, il personale dell'ufficio tecnico comunale di Ragusa, gli agendi della pulizia municipale della questura i quali hanno provveduto a recintare l'aria interessata dal crollo che è stata pertanto vietata al transito veicolare. Quando è accaduto non è certo da sottovalutare, si poteva rischiare di trasformare in qualunque ora del giorno l'improvviso crolli in una possibile tragedia. Un rischio quest'ultimo che si corre purtroppo in tutti i centri storici di tante località del Mezzogiorno dove la situazione è questa, a causa di decine di stabili, fatiscenti, case pericolanti e vecchie, catavecchie che rischiano di crollare da un momento all'altro. Si tratta di case in parte abbandonate o talvolta abitate da persone in difficoltà. Si potrebbe fare un'ordinanza di demolizione ma spesso si tratta di immobili abitati da gente indigente che non avrebbero i soldi per demolire e non avrebbero alternativa di residenza. Una cosa è certa, è necessario scongiurare che si ripetano episodi analoghi nei nostri centri storici. Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 5. Quattro i feriti tra cui una bimba di tre anni. La cronaca in questo servizio. Incidente stradale autonomo ieri intorno alle 19.30 sulla strada provinciale 5. Ad essere coinvolta una Clio Renault con a bordo quattro persone, la conducente una vittoriese di 33 anni, due ragazze di 12 e 14 anni ed una bambina di tre. Da una prima e non definitiva ricostruzione dell'evento sembrerebbe che l'auto stava percorrendo la strada provinciale in direzione di Comiso, quando nei pressi del chilometro 3 circa, dove la strada si presenta rettilineo, per causa in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta di Marce e si è scontrata con il muro in calcestruzzo di un accesso privato. Sul posto sono intervenuti la polizia provinciale, diverse ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Vittoria. La peggio è toccata alla donna e alla figlia di 12 anni, entrambe in prognosi riservata. 60 giorni di prognosi invece per la 14enne e 30 per la piccola di 3 anni. Adesso una pausa pubblicitaria, ci vediamo tra poco.